Con grande autorità la Sidigas Scandoni Avellino supera l'esame Palacarrara. Irpini escono indenni contro i 4.000 dell'impianto pistoiese, giocando una partita da squadra forte, ma ancora di più matura. Dopo un avvio complicato che ha consentito a Pistoia di condurre il gioco, Figlioi e compagni sono venuti fuori nel secondo quarto. I secondi 10 minuti hanno indirizzato la partita. 26-10 il parziale per la formazione bianco-verde di coach Stefano Sacripanti, trascinata da uno strepitoso Jason Rich, che è andato al riposo con 18 punti al referto. Ma la vittoria è firmata anche a Madin Ghaie. Il senegalese fa due o tre cose utili che servono al gruppo e difensivamente è una presenza notevole. Sotto di lui non si tira, intimidatori come pochi. Rimbalzi è presenza difensiva. Il resto l'hanno fatto gli altri, ovvero Figlioi, Lunen e tanto Wells nella terza frazione. Ma ha anche l'importante presenza di Lorenzo D'Ercole, che quando è entrato ha alzato l'intensità difensiva. È stata la miglior Sidigas della stagione, che vince sempre quando difende, da squadra e non regala palloni agli avversari. Oggi bianco-verde nuovamente sul parquet e mercoledì arrivo stenda per la prima gara di Champions al Paladal Mauro.